Tutto il capitolo delle grandi opole e anche della politica energetica sono una delle prove della grande confusione di questa maggioranza che non riesce a decidere su nulla, sia sulla TAV sia sulla vicenda trivelle e questo è un elemento di lebolezza anche della nostra politica economica in un momento di grande crisi economica che impone delle scelte chiare.